Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su Leontube, eccoci in questo video per andare a vedere il Looper Pricks della Lamborghini Miura Concept. Allora, premi, concentriamoci subito sui premi. Ok, c'è in palio la chiave. Ok, quindi come sempre per ogni livello, partiamo dalle 5 chiavi del livello 1, fino ad arrivare ad una chiave del livello 5. Allora, andiamo a vedere gli allenamenti. Intanto, vi dico subito che la Miura Concept è un'auto di classe C, ci servono, per portarla al massimo, 133 progetti, che sono 25 per la seconda stella, 32 per la terza, 36 per la quarta e 40 per la quinta, per portarla al suo massimo servono 8 pezzi di importazione epica e 10.444.000 crediti per goldarla, quindi potenziarla al massimo. E ha una velocità di 346 km orari. Diciamo, sì, è un'auto, una C5 stelle, non è un'auto fondamentale, diciamo, però è sempre un'auto da avere in più. Allora, come ogni Grand Prix, per entrare e partecipare, quindi al vivo del Grand Prix, abbiamo questo allenamento. Dobbiamo soddisfare tre requisiti, ossia tre condizioni. Eccole qua, derapa per 500 metri. Basta fare tre volte questo obiettivo qua. Poi abbiamo battito il tempo di 1.32 per avere dei crediti e battito 1.31 per avere dei pacchetti, dove all'interno possiamo trovare anche dei progetti. Una volta che abbiamo fatto le tre condizioni, entriamo nelle qualifiche nella Q1. Entrati nelle qualifiche possiamo andare a prendere anche questi premi qua, ovviamente battendo il tempo di 1.28. Nelle qualifiche saranno tre, la Q1, dove gareggerete, e se vi qualificherete nei primi dieci, entrerete. Se non riuscite a passare, ci sarà la Q2. E anche lì stesso discorso, se riuscirete a stare nei primi dieci del vostro gruppo, vi qualificherete, altrimenti non vi qualificherete. E avrete però la terza possibilità, che è quella di pagare in genere 500 oggettoni per poi partecipare. Generalmente vale sempre la pena, perché i progetti, anche quelli che si ritrovano dentro i pacchetti, si ripagano da sé, più tutti i premi. E andiamo a vedere quindi, una volta qualificati per i round finali, ci sono anche tutti questi altri premi, tra cui ben 5 progetti della concept. Quindi tempo di riferimento, 1.26. Questo è il tempo di riferimento per, diciamo, dal quale generalmente possiamo provare a contare i tempi per capire in che livello finiremo. Quindi più o meno dobbiamo contare, all'incirca, 2 secondi in meno per ogni livello. Che vuol dire, dal 24 al 26, sarebbe 25.26, livello 5. 23.24, livello 4. 21.22, livello 3. 19.20, livello 2. E 17.18, livello 1. Anche se questo è un calcolo approssimativo, perché in realtà nei livelli si entra in base alle posizioni. Infatti vediamo qua, a livello 1, i migliori 1% nei gruppi si qualificano. Questo che vuol dire che, tra tutti quelli che gireranno, quelli che rientrano nell'1% faranno parte del round livello 1. Saranno tutti insieme. Che vuol dire? Vuol dire che se ci sono 1000 giocatori, l'1% sono 10. E quindi ci sarà un girone in cui ci saranno quegli 10, che sono nell'1%. Nel livello 2, si va quindi dal 2% al 10%. Quindi, ipoteticamente, se nel livello 1, su un'ipotesi di 1000, ci vanno i primi 10, nel livello 2, i gironi saranno formati dai primi 100, esclusi i primi 10. Quindi dall'undicesimo al centesimo. E così via, a salire dall'11 al 25% livello 3, dal 26 al 75% nel livello 4. Il resto, tutti nel livello 5, ma quelli da 76 al 100%. Quindi, i tempi possono essere... sono indicativi, ma non sono, diciamo, precisi e certi. Allora, andiamo a vedere la pista. Abbiamo ovviamente un giorno per sbloccare queste condizioni. Andiamo a vedere la pista. Ah, ecco, hanno messo questa novità. Siccome il Looper Pricks praticamente funziona che abbiamo sempre il nostro fantasma, possiamo resettare la nostra traccia, qualora magari sbagliamo su una pista e sbagliamo il percorso e non riusciamo a migliorare, possiamo resettare la nostra traccia. Perché come funziona questo Grand Prix, se c'era stato nella stagione scorsa, avremo davanti a noi sempre il nostro fantasma, che sarà il nostro miglior giro, fatto sia in allenamento, sia in gara. Un altro piccolo appunto è che... per quanto riguarda i tempi, con i quali verremo raggruppati nei gironi del Grand Prix, viene sempre considerato il miglior tempo che facciamo tra allenamento e qualifiche. Non conta il tempo di qualifica soltanto. Il tempo di qualifica conta esclusivamente se ci dovessimo trovare a pari punti con un avversario, viene preso in considerazione il miglior tempo di qualifica. Tanto qui mi sta registrando la traccia, ma io adesso faccio le derapate. Ok, questa è una pista anche non facilissima, diciamo. Ok, qui il derapate abbia derapato. Allora, il tempo era 1.26, il tempo da prendere in considerazione. Ossia, diciamo, il tempo 1.26 lo consideriamo come il tempo dell'ultimo giocatore. Perché questo? Perché completando il tempo di 1.26 si vanno a prendere i cinque progetti della Miura. E quelli, diciamo, che vengono regalati tra tutti i progetti che vi ho fatto vedere prima. E quindi è normale che tutti andiamo a prendere quei premi. Ha poco senso non andarli a prendere. A meno che proprio qualcuno non ci riesce. E quindi potrebbe... Che può succedere, eh? Nel senso, intanto l'1.26 l'abbiamo già fatto. Qui ovviamente, ecco, ok, mi fermo a 1.37. 7.50. Questo adesso è il mio tempo per entrare nelle qualifiche. Lo lascio così. Non ho forzato il tempo delle qualifiche perché potrei, forzandolo, ma non è detto, potrei ritrovarmi con persone forti. E quindi dovrei spingere un pochino di più per fare il tempo. Anche se ricordiamo che 1.26 il tempo, secondo me, è minimo da fare. Allora, quindi qui avete visto adesso ho sbloccato una condizione. Ho sbloccato una condizione, altre due condizioni e divento e mi qualifico. Quindi ora andiamo a vedere. Abbiamo tutto il tempo delle qualifiche finché non inizia proprio il gran premio, che quindi sarà almeno tra quattro giorni. Per, se non solitamente, eh. Per prendere tutti questi premi e prendere anche i cinque progetti finali. Questa, vedete, è la nostra scia. Ci fa vedere, abbiamo il fantasma che ci dà... E' appunto la scia che ci fa ricaricare nitro. Ci fa vedere anche il distacco, come stiamo andando rispetto al tempo che abbiamo fatto. Questo ci aiuta un pochino. Soprattutto in questa fase, se non vogliamo forzare troppo. Comunque vi ripeto, non è una cosa... Eeeh... Certa. Quindi potete capitare tranquillamente con... Persone anche che fanno dei tempi discreti anche... Nei round di qualifica. Qui vedete che nonostante non sto forzando, ho guadagnato il secondo sul mio tempo di prima. Ora ovviamente voglio arrivare dietro. Ecco, questa macchina ho tolto... Non sto dando accelerazione. Sono inderrapato e quasi accelera. Invece quando vuoi accelerare, non accelera mai. Guardate. Ok, ora cala un po'. Perfetto, così siamo indietro. Parte il nitro. Ok. Questa era per farvi vedere un po'. Vedete il distacco e quindi potete anche capire se state migliorando oppure no. Adesso ci vediamo quando ho raggiunto le condizioni. Ok, ecco che abbiamo raggiunto le 4-3 condizioni. Quindi abbiamo fatto le 4. E vedete che ci sono... Si sono sbloccati anche gli altri premi. Quindi adesso già potremmo andare a prendere tutti questi premi qua. Perché automaticamente ci siamo qualificati per le Q1. Che ci saranno domani. Infatti ancora... 22 ore e 58 minuti, cioè 23. 23 ore. Ok, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici nei vostri social. Non dimenticate di lasciare un commento. E come sempre, se vi va, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale. Non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.